È stata una grandissima emozione perché non solo... Allora, noi questo premio, la statuetta, l'Oscar d'oro che abbiamo ricevuto, questa è la terza volta che la riceviamo, la prima nel 2016 con il Lorenzo numero 5, l'anno scorso l'abbiamo ricevuta con un biologico DOP Monte Etna, Natura Viva, e quest'anno con il Lorenzo numero 1, l'emozione è più grande, devo dirti, siccome Lorenzo numero 1 è dedicato a mio bisnonno, il fondatore dell'azienda, e proprio lui nel 1904 vinse le medaglie d'oro a St. Louis, quindi quando c'è stata la premiazione ed ero lì a New York, che è in tutta la sala tutta piena, vedevo i video della nostra azienda che venivano mandati là in diretta, e ho sentito come se loro, i miei antenati, Lorenzo 1 a cui era dedicata quella bottiglia d'olio, era lì accanto a me, quindi un'emozione bellissima. Quali sono le caratteristiche di questo olio vincitore? Ma ti dicevo, è un olio, è un fruttato intenso, quindi è un olio molto ricco in polifenoli, tra virgolette potrei dire è un olio da bistecca più che da pesce, viene ottenuto con una frangitura particolare, cioè utilizziamo degli frangitori speciali a rulli in pietra contrapposti, che fanno un po' il lavoro delle vecchie macine, però con una tecnologia molto moderna, e queste olive, la cerasuola, che è tipica della regione dove c'è anche il nostro stabilimento, Gustonaci, uno degli stabilimenti principali del gruppo, sono delle olive particolarmente uniche in Sicilia, si diversificano completamente da tutte le altre varietà, quindi un prodotto veramente particolare. Come coniugare innovazione e sostenibilità? Ma guarda, noi lo stiamo mettendo in atto, l'abbiamo sempre messo in atto, diciamo che il nostro motto, il nostro payoff è proprio mente industriale in un cuore artigiano, cioè noi coniughiamo l'innovazione, però con tutto quello che la tradizione ci ha insegnato ad essere importante, come valori da tramandare. Oggi più che mai, e purtroppo stiamo vivendo un momento molto difficile, col cambiamento climatico, bisogna avere attenzione proprio per la sostenibilità dei processi, e infatti per questo motivo siamo stati i primi a mettere in atto un oliveto superintensivo, quindi l'allevamento superintensivo alla spagnola, però con le varietà tipiche autoctone siciliane, e su questo a ottobre avremo il primo raccolto. Grazie.